Si concede con questo ultimo brano, un brano di un nostro grande amico, Dusko Gojkovic, che è stato l'arrangiatore di Woody Herman, ma è stato anche l'arrangiatore dell'orchestra del Torino Jazz Orchestra, l'orchestra ufficiale della città di Torino. Ci ha concesso e ci ha regalato anche un sacco di brani arrangiati da lui. Questo ultimo brano suo e anche l'arrangiamento, il blues, con questo l'orchestra che saluta, quella volta lo dico, Fancy Nancy di Hugo Fancy. Grazie e buonanotte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.